facciamo che il 2 marzo facciamo un nuovo evento di plasma a Milano al mare culturale urbano non sappiamo quando uscirà questo podcast se siete arrivati fino a qui nel podcast scrivete sotto ci sarò voglio il biglietto gratis e noi vi manderemo il biglietto gratuitamente sarà gratuito sarà gratuito per tutti iscriviti qua sotto ticket punto esclamativo a un biglietto gratis pagato da Michele facciamo che ha un drink gratis offerto da plasma ben tornati in questo nuovo podcast siamo qua ufficialmente con un ospite speciale finalmente ci siamo tutti introduciamo Giacomo Giacomo Casadei Giacomo piccola regola non si guarda in camera perché Tommaso se no guarda male chi ci guarda da casa appunto e tutti ci odiano devi parlare il più possibile vicino al tuo microfono e si parla una volta se vuoi parlare alzi la mano e così siamo tutti felici e tranquilli perché siamo qua Filippo perché siamo qua io voglio anticipare che ero contrario a tutto questo no non è vero siamo qua per festeggiare e guarderò farò la sfida di guardare tutto questo podcast la camera senza mai distaccare lo sguardo e far vedere che le views possono arrivare anche così siamo qui per festeggiare due anni di plasma applausi due anni di plasma vabbè che ci facciamo da soli applausi che ci facciamo da soli un podcast autocelebrativo inutile ma che va ad appare un buco un buco che come vedete riempie spazi in tutti i sensi che ancora non ci sono spazi per il podcast che vedrete ci saranno ma sapete com'è il calzolaio ha le calze laio no? è così due anni non andremo da nessuna parte secondo me oggi con le calze sporche prendo la palla parto per chiedervi a turno due anni due anni a noi due anni cosa è cambiato come è cambiato da essere delle merde indipendenti a delle merde con un srl mai stato indipendente merda sì però ah ok e te? ma è stato ma ha cambiato la vita scusa io che ti guardo da qua adesso se ne sto dente per la prima volta aspetta non è come indicarlo però no no è bellissimo è la prima volta quante cose ci vuoi mettere sembri un tossico da fare è bellissimo scusa ma te ricordi quella te ricordi quella storia te ricordi quella storia stiamo già qui preambi che venne a chiedere i 5 euro e tu gliene hai dati i 5 euro partiamo con questa storia io ho un sogno io ho un sogno nel cassetto che tra due o tre anni arriverà lui con non so un jet privato e 5 euro e ti darà 500 mila euro per dirti Michele tu quel giorno mi hai dato 5 euro partiamo con questo racconto prima ancora di questo con questa storia che è una storia in realtà recente che però definisce la bontà d'animo di questo ragazzo e non solo raccontaci ti fa onore quella mattina fredda di del pancabestia vabbè ma siamo già arrivati a quello abbiamo già fatto un salto temporale per due anni come ogni film parte con la fine c'è un flash forward allora vabbè non è una grandissima storia semplicemente erano tipo le 10 di mattina sentiamo suonare in studio vado ad aprire c'è questo ragazzo palesemente malmesso vestito senza creare degli stereotipi anche perché anch'io mi vestivo così fino ai 20 anni probabilmente però lui quanti ne aveva? lui ne prendeva 35-40 mi mostrava anche 60-70 globe pantaloni larghi pancabestia ma nulla contro il pancabestia comunque aveva bisogno di qualche eurino per fare benzina alla macchina ma ha fatto un teatrino pazzesco una recitazione incredibile da oscar prima di tutto scusa suona io alzo il cornetto del citofono e lui che inizia a dire no guarda mi sono fermato perché c'è la macchina c'è il mio fratellino e una storia una timeline poi scendiamo andiamo giù insieme apro perché apriamo perché diciamo noi non abbiamo stereotipi siamo veramente puliti dentro è assolutamente vero è lui è tornato è tornato va giù riprendo in mano io dato che Tommaso va giù altra timeline altra storia cosa ti ha raccontato niente semplicemente aveva bisogno di soldi si vergognava tantissimo quindi ha fatto il teatrino tipo ma che figura di merda ma di qua mi spiace aveva bisogno di soldi per fare benzina dicendo che me li avrebbe riportati subito dopo e io glielo ho dati ovviamente perché cioè gli ho creduto perché sono di anima buona e e non è mai tornato non è mai tornato vabbè sono quelle cose che però un bel gesto un bel gesto diciamo che quindi schippando Tommaso Michele quando è il compagno di plasma perché auguri plasma ma quando ufficialmente il primo febbraio ok c'è stato un dibattito prima della puntata del come Tommaso si ricordasse invece che era il 2 2 22 e c'è 1 2 22 ed è appunto il primo febbraio di due anni fa cosa è cambiato professionalmente e non in due anni cosa è cambiato c'è il fantasma di Tommaso quindi parla tu ma è una domanda generica puoi anche risponderti da solo nel senso che ce lo stiamo ce lo stiamo chiedendo cosa è cambiato vabbè per me non è cambiato tantissimo l'abbiamo già parlato io e Giacomo tra l'altro avevamo un'altra società facevamo più o meno le stesse cose tra l'altro con voi sempre quindi semplicemente fatturavamo con un'altra partita IVA però di fatto plasma già esisteva già un po' lavorava cos'è cambiato? è cambiato è cambiato avere per la prima volta secondo me dei colleghi dei soci dei collaboratori con cui effettivamente investire il proprio tempo e le proprie risorse in maniera concreta senza speculare un po' su quello che poteva essere un possibile futuro e con chi perché secondo me la differenza la fanno le persone con cui sei non tanto la visione che hai che di fatto è rimasta la stessa e la tua visione secondo me nel tempo da quando è partita plasma è cambiata è cambiata tanto siamo entrati più nella parte la tua maestate la mia la mia poi direte anche la vostra in generale questo è stato avere dei compagni di viaggio adeguati alle ambizioni che ci siamo dati per lei per me sono arrivato adesso la stessa domanda di prima gli ultimi due anni allora la differenza secondo me è che quando si pensa di fare le cose da soli adesso pensiero filosofico e quando si pensa di fare le cose da soli il problema è che ci si chiude veramente da soli quindi tu sei veramente un one band che fai le tue cose eccetera secondo me in generale noi invece creando una squadra crei una una sinergia e in qualche modo tu crei l'ambiente dove effettivamente ti sproni a vicenda ad andare avanti a fare cose insieme che è diverso da invece giocare uno sport singolo senza né allenatore né squadra né preparatore noi siamo i nostri preparatori siamo i nostri teammates cioè quindi ci ci spalleggiamo a vicenda e questo sia da un punto di vista psicologico che anche da un punto di vista di risultato per forza porta del buono perché sono quattro persone che remano nella stessa direzione piuttosto che una che insomma fa differenza possiamo dire che l'unione fa la forza assolutamente Giacomo quindi la domanda la facciamo anche lei dottor Cinotti dopo tanti anni di partita IVA com'è cambiata questa percezione in azienda intanto un colpo strano vedere nel sito dell'agenzia delle entrate la mia partita IVA chiusa dopo due anni di società è stato strano è stato strano sono d'accordo con quello che ha detto Tommy comunque che realisticamente si come dire si inizia a ragionare fuori da un box fuori da un contesto personale per me personalmente era già una cosa che vedevo da un po' senza averla messa a nero su bianco appunto con una casa di produzione ma perché perché nell'esserci incontrati c'era già questa situazione del fare fare team ecco fare team e nello specifico non c'era magari comunque Plasma è nata quasi un anno prima nata no più di un anno prima cioè l'idea l'idea Plasma è un anno prima un anno prima il gruppo eh sì noi a aprile abbiamo fatto abbiamo tirato fuori il primo Plasma processo lunghissimo tra l'altro non c'era il nome Plasma sì sì allora c'è il ricordo c'è il ricordo questo è anche un po' questo è anche un po' interessante c'è il ricordo di quando iniziamo a pensare al nome io lo ricordo bene perché era aprile era aprile era marzo-aprile quando abbiamo iniziato addirittura 2021 quando abbiamo iniziato addirittura a chiedere i primi loghi a chiedere i primi studi di identity un processo lunghissimo che in realtà è stato definito molto più nel 2021 tra l'altro pensate il percorso incredibile da tre anni a cui c'è Plasma il grafico che ha fatto il logo ora è in Plasma la cosa più bella grande Colli che è di sopra adesso a macinare scusa ti dirò di più l'1 aprile c'era già Cooper l'idea di Cooper per dire esatto sì lo so lo so lo so tu è un drogato certo però ti ricordo no ricordo che durante il documentario di partenza il documentario che abbiamo fatto prima del 2022 che per rispetto personale di tutti non diciamo vabbè il documentario che abbiamo fatto prima del 2022 fine 2021 era e non c'era Plasma ma no non si nominava allora il discorso c'era il progetto no lì non si nominava ma era dicembre 2020 c'era il nome c'era comunque il discorso è 2021 è stato un anno preparatorio 2021 scusa 2021 è stato un anno non sovrapponiamoci lo ricordano anche non sovrapponiamoci no sì tant'è che nel titolo di coda c'è scritto proprio Plasma tra l'altro invadendo mi sento invasone a SaveZone vi denuncerò ma vabbè il discorso semplicemente è che siamo partiti un anno prima quindi c'era già questa visione un anno ancora prima di Plasma io ero già in questa roba quindi io personalmente sentivo già questa idea della realtà della società allargata dal 2018 con anche tentativi fallimentari quindi posso dire che sono sei anni che sono un po' dentro con la testa sta roba cioè all'idea poi effettivamente da quando è diventato così quindi quando vedi attivamente che quello che fai è porta a gruppo è stato sicuramente una cosa molto più interessante lato anche di di maturazione personale di percorso e ti distacca molto da un'idea dall'idea classica che uno può avere di di fare una realtà come dire ancora non ti sei pentito dai no ancora no ogni tanto ogni tanto dico beh tornassi indietro no scherzo il problema forse è quello la gente deve capire anche l'effort che e quello secondo me vabbè l'avevamo messo tutto in conto ma poi lo vedi veramente quando sei sopra l'effort che ci devi mettere non so a livello umano non so a livello di tempo ma anche a livello proprio umano personale quando tu vedi che effettivamente tutto quello che fai va a una causa va a un fine va a un gruppo e devi proprio esternarti completamente dalla visione ma che si può dire individualista individualista schifosa legata ai soldi avida avida bravissimo devi proprio sapere che stai lavorando a un progetto più grande e quella Lamborghini se non arriva nel 2022 arriverà nel 2028 arriverà più avanti la difficoltà è di staccarsi dal momento in cui tu semini al momento in cui raccogli che si dilatano i tempi in una maniera diventa un raccogliere quello che tu hai seminato da solo e un seminare a 2, 4, 6, 8 mani più largo più tempo campi più grandi e poi c'hai il proprietario terriero che ti toglie quel 30 40 e poi c'è il proprietario che prima dicevi vabbè dai mi tengo quella parte di orto non mangeremo le carote quest'anno invece sei lì che dici no quest'anno senza mangiare per un mese comunque se anche Giacomo vuoi dire la tua e tra l'altro introdurti nel senso che prima ti abbiamo detto nome e cognome eccetera ma non sa nessuno cosa fai Giacomo chi sei? lato oscuro di plasma la parte più rompi maledetta io dentro plasma mi occupo di quella parte un po' più brutta legata ai numeri che vado un po' in tutti i reparti a chiedere a fare a scovare che cosa vogliamo fare no? il CFO dai possiamo dire in termini inglesi stupere Tommaso? CIF financial officer ah beccato beccato quindi responsabile delle finanze ecco come diceva Tommaso questo acronimo inglese responsabile delle finanze responsabile dei contratti interni delle collaborazioni e adesso stiamo provando a portare novità incredibili dal 2024 in avanti poi dobbiamo vedere come va quali progetti vanno quali no esatto ed è la persona che sguinzalliamo di solito quando ci sono problemi più grossi esatto vogliamo davvero dare fuoco alle polveri che si pare dare fuoco alle polveri quando Michele rischia una denuncia quando Michele è in galera e deve uscire dentro 12 ore qualcuno deve pagare la cauzione diciamo che se c'è la merda grossa arrivo io se mi vedete in schermo è già un problema se no rimango dietro le quinte ne approfitto scusa volevi prego prego no perché più che altro Tommaso sta andando alle origini del periodo che quasi non si dovrebbe tra l'altro ormai tutti l'avranno letto letto ma è qua queste le prime bozze di plasma buttate buttate giù plasma diceva questo diciamo noi brainstorming buttiamoci qualcosa perché debba andare in mano qualcosa ai grafici per poter sviluppare una proposta di branding e di logo noi dicevamo plasma considerato uno stato della materia caratterizza il diverso e lo sconosciuto fulmini e aurore boreali sono solo due esempi di ciò che rappresenta questa sostanza ovvero fenomeni affascinanti potenti e profondamente rappresentativi la realtà di plasma production ancora le public mi sa che c'è la parte lavora costantemente al raggiungimento di quello stupore è veramente è veramente bello però penso poco interessante sai cosa raccontiamo la cosa veramente interessante di questo invece è fighissimo non sono d'accordo te non ti ricordi della cosa veramente interessante di quando è nata mia figlia che siete venuti lì abbiamo tirato un dado e abbiamo detto vediamo cosa esce fuori è venuto fuori Aurora l'abbiamo chiamata Aurora per questo documento vi ricordate? sì proprio così no non è stato così è facile aveva degli incredibili comunque scusate qui c'era mancava una cosa fondamentale il fatto che questo documento è del primo aprile 2021 primo aprile 2021 quindi e già noi da gennaio febbraio di quell'anno già iniziamo a farci i ragionamenti e verso marzo io mi ricordo che verso marzo venne fuori un po' anche il nome questo documento non so se andrei oltre no no vabbè potremmo far vedere ma posso? no io lo io lo otterrei per una puntata a parte perché è interessante ma siamo qua no è interessante è interessante voglio poi vedere da dietro le quinte se qualcuno può dire che in questo episodio può essere interessante far vedere qui le proposte di logo potrebbe essere sì va bene facciamolo facciamo dai non posso andare avanti vabbè il succo qual è? uno dice Ferrari uno dice Lamborghini proposte di logo quante ne faranno internamente noi dei stronzi effettivamente quante proposte di logo abbiamo passato e quanti grafici abbiamo passato prima di arrivare a plaza decine no centinaia migliaia se me le stai mandando perché non toccarle adesso ci sono state delle varie varie poste questa è stata la prima proposta io la farei vedere ce ne è un paio sotto me ne sta mandando Tommaso una proposta che per quanto stimola l'artista che l'ha fatto no vabbè ma in senso allora partiamo dal presupposto sarebbe da parlare tanto partiamo dal presupposto non c'è non c'è problema nel senso non è denigratorio per l'artista è semplicemente perché non è stato scelto che per noi non era corretto poi in quel momento quant'altro poi per carità ci mancherebbe lo studio che c'era dietro è un discorso molto più lungo di quello che dovrebbe essere per non apparire denigratorio al primo occhitto ma non è vero guarda l'applicazione cioè se noi arriviamo a questo ma cosa vuol dire comunque questo è stato il primo approccio a tal proposito questo è stato il primo approccio al così tutti i giorni al progetto questi due sono due anni due anni così ma qua il concept iniziale era questa medusa appunto che di fatto come non è una medusa s*****a non era s*****a non era s*****a no una medusa Michele aveva richiesto quello una medusa io sapevo questo eeeh anche un pochino ma questo tagliamo che è meglio ma tanto a noi non dispiaceva in realtà poi dopo è passata in altri in altri è andata in sordina come si dice è passato al sesso il cinema ma quanto ero mi stai mandando a mezzo tutte le proposte qualcuna qua chiede tutte le proposte tra l'altro a me sinceramente ragazzi la parte olografica il lavoro sui colori il glitch come dire il punto di cioè c'era una razione qua a me diceva l'applicazione di una texture sotto il punto di contatto non era male quel momento in cui quella frazione di secondo nella quale succedono cose non era non era male poi bocciato questo non mi ricordo no questo non me lo ricordo non so che cosa da che parte fosse però forse era la seconda che però sapeva era sempre del primo grafico che però alla fine diciamo non ce lo propose neanche sì ve lo mando ma noi stavamo già guardando al di fuori ma senza nulla anche questo non era male come punto di partenza diciamo di di concept beh comunque potete dare qualche feedback nel senso no perché se do dei feedback devo fare un discorso dietro questo ce n'era uno di questi che non era per niente male secondo me poi lui queste proposte le ha giustamente riformulate nel tempo oh ve lo dico ve lo ripeto a me questa non dispiaceva per niente applicata oggi nel modo giusto secondo me con tutto il contorno e non era assolutamente male me l'ha fatta così ad hoc all'alpha non forse era un po' meno originale di quello che abbiamo poi incontrato il fatto che non è mai stata applicata con il lavoro di branding però effettivamente come come logo di partenza è un po' medievale secondo me un po' un po' dnd io vedo più un'applicazione di un fonte io vedo più gente che prende fonte scrive plasma e lo sa che dietro c'è qualcuno che ha un minimo di know-how grafico e poi gli girano le palle perché sembra uno scam no questa è la mia percezione questa è la mia percezione questa è un'altra mia percezione questo è applicare un fonte una texture di photoshop invece sopra scusate un embossing questo invece è usare fluidifica su photoshop questo è fare così fluidifica su photoshop ragazzi il discorso è tutto quello che vedrete sono da mio parere delle applicazioni molto veloci differenza invece dell'artista che ha fatto prima che io lo chiamo artista non grafico perché infatti è un artista che ha preso in mano un lavoro di brand identity che ha chiaramente visto con una visione artistica non con il fine che doveva avere quindi per questo secondo me è stato un po' un po' meh il risultato questo mi ricorda mi ricorda brutalmente quando andavo all'Iris al Versari e buttavo font sopra e provavo a far roba Filippo e provavo a far roba Michelangelo Greco te l'ha scritto che sono deficienti no anche perché questo taglio no anche questo Michelangelo Greco che brutalmente ha inconsapevolmente unito un'idea di logo che aveva fatto Colli per un altro progetto che avevo io per plasma mai andato in porto non ti ricordi Michele se abbiamo questo adesivo da qualche parte ha un cos'ha un'elvetica tipo un font molto in realtà così in realtà erano delle proposte neanche questo non ci dispiace anche perché c'è l'aggiornamento poi di questa qui sì diciamo che con lui eravamo partiti secondo me con delle aspettative molto più alte per quanto ha fatto un lavoro decente nel senso ci sta come proposta poteva essere questo plasma sì assolutamente no è molto una banca per certi aspetti ci vedo quasi sparcasse il signor grafico lo puoi rivendere in una banca questo però almeno aveva questo non è male nella sua semplicità nella sua nel suo non carattere di scelta di font secondo me era comunque una cosa con un minimo di ricerca anche perché attenzione torno indietro scusa prima di vista questo non è così diverso anche perché il discorso di dire nel vetica una cosa del genere è molto lontana secondo me da quella che poi è diventata anche l'identity però per alcuni aspetti può essere proprio un senso proprio un senso differenza di quello dopo mostra Senko che ecco qui non è il problema ma il rosa quali è stato dato l'abbiamo dato nel corso non mi ricordo è una cosa arrivata con il logo e il discorso qual è? il problema di una proposta del genere e prima una proposta come quella di prima e questo lo dico con know-how grafico è non aver capito un cazzo dalla richiesta del cliente per quanto perché se tu mi mandi due robe così mi stai parlando in uno di Monsters & Co e nell'altro di un film Venezia 89 nel senso per fare degli esempi sono due fini anche grafici estetici molto lontani tra di loro secondo me non esattamente appunto centrati nell'obiettivo il rose di plasma per chi vuole sapere è DE86A2 non so la RGB i ragazzi vogliono un campionare ma direi che non c'è bisogno non è importante soprattutto andando avanti qui altre prove dello stesso però prossimo c'è un'altra proposta secondo me l'aggiornamento di questo che non era male tutti i nomi qua ci sono se volete prenderli dalla master ci sono questo questo era uno di quelli che siamo affermati perché anche qui era una rivisitazione del VET che non so cosa gli dicemmo non era male in realtà questo questo ci pensiamo parecchio questo non fu male anzi a rivederlo oggi lo ruberemo per qualche utilizzo terzo no non è vero però ecco capito una cosa così anche uno studio del genere c'è già c'è già un'idea dietro c'è già un percorso no anche perché a me è stupì il fatto di cambiare tutti questi grafici e c'è un grafico non ti porta una proposta fatta e finita con tutte le quasi con i mockup con il logo applicato cioè non funziona proprio così a livello e qui ci siamo con il primo sprazzo dopo che avevamo finito tutte le speranze proposta 1 già già lo dico non perché giochiamo veramente con una roba finita in caso ma questo è anche come vai a proponere un logo nel senso che vai avanti c'è un'applicazione dello stesso non c'è nulla di esageratamente complicato nell'applicazione però ti fa capire l'identità gli avevo già fatto capire il sapore con dei vocali e il buon collina aveva già preso qui c'erano delle prove tra l'altro molto bello se vorremmo fare united course of bennetton quello è carrard mi piace molto seconda proposta e qui e qui e qui svegliamo l'arcani qua c'è il succo qua c'è il succo si vede si vede si vede si vede abbiamo detto è talmente carina questa cosa che li utilizzeremo entrambi e alla fine sono stati in grado di convivere non ci non ci cominciava per niente proprio la scritta plasma così ma la p la p è rimasta un po' nel cuore torna pure giù che la facciamo vedere e qui c'è la p magica che poi ora è sparita ora è sparita perché colli stesso ha fatto una innovazione dell'identity la nuova identity plasma che verrà presentata appunto col compleanno breve bene ma posso farvi una domanda allora dopo questa esperienza soprattutto tu Filippo che hai vissuto diverse volte questa cosa genitorialità dai dei consigli al nostro gentile pubblico su come creare non un brand però proprio come sviluppare le idee come sviluppare il mood estetico perché io mi ricordo che noi per giungere a queste conclusioni qua già da prima avevamo iniziato con dei mega mood board personali di quello che vedevamo eccetera eccetera poi alla fine ha vinto solo il tuo perché no sì vabbè ma nel senso mi sono imposto ma è giusto imporse a un certo punto perché voi potete fare delle società delle realtà qualsiasi cosa con delle bravissime persone bellissime persone ma che non capisco un cazzo a livello estetico quindi dovete un po' educarli ed è giusto che sia così è normale non ho detto loro nello specifico non ho detto loro io non ho detto io non ho detto loro non capiscono un cazzo avrei potuto però il discorso qual è io avrei accettato ma certo Tommaso abbiamo parlato più e più volte no assolutamente figuratevi però il discorso è nel fare già una realtà intanto è molto più di un matrimonio nel senso che andate a fare un qualcosa dove veramente vi legate con delle persone quindi già punto uno queste persone devono anche accettare questa vostra quindi qual è il consiglio sposatevi per capire ci arrivo nello sposarvi tenete conto che questa persona queste persone se comunque non sposano certe idee dovrete trovare una via di mezzo per come dire comunicare quello che potete fare come percorso è creare appunto una mood board la mood board cos'è? dovreste avere una Milanote che noi facciamo tempo fa noi facciamo questo grande questo grande tabellone digitale dove ognuno di noi iniziava a mettere giù che cosa era plasma per loro vennero fuori appunto per la prima volta astronauti e mi ricordo tipo da Tommy che era più per dire ma in realtà da entrambi forse era più occidentale che orientale in certe parti la vision era più se c'era un astronauta da questa parte di qua magari c'era un po' più il nipponico dalla vostra c'era più l'occidente con cosa ha vinto c'era un po' più Nolan completamente al contempo però c'era anche tanto un imprinting giapponese non solo da me quindi però guarda c'era già esatto questa è la primissima questa è quella che abbiamo mischiato primissima mood board questa è la primissima questa è quando l'abbiamo fatta poi mischiando tutti insieme vedi c'era già io ho messo quasi un po' cyberpunk questa roba qui beh era comunque c'era un po' di c'era già il discorso questa era tutta la mia mi sa che erano divisi no erano un po' la mia la vedi in fondo perché capito perché io questo mi ricordo l'avevo messo io questo l'avevo messo io Stassi scontro l'avevo messo io sono robe che molte di queste ci si sono ritrovate insieme il disco di cosa vai giù questo è diventato un podcast che non può essere ascoltato questo deve essere visto ho solo parlato di cose visive c'erano degli astronauti per dire la prima idea dell'astronauta è venuto fuori anche da questo c'era astronauta che era già più o meno anzi lo già lo chiamavamo Cooper no no c'era l'idea del nome su Discord mi ricordo che tra di noi non c'era ancora il nome di Cooper quando abbiamo chiesto il disco e abbiamo detto volevamo cambiarlo volevamo cambiarlo no volevamo cambiarlo vergogna ti dovresti ricordare si doveva chiamare si doveva chiamarsi Ideo doveva chiamarsi tutta la famiglia di Filippo doveva chiamarsi Kurosawa le cose che piaccionavano a lui si poteva chiamare tutto così era tutto mio Dio Bono vabbè comunque tagli tutto il mio tagli il mio ma fa vedere il mio questo è il tuo questa Playstation 1 è esattamente quello che plasma oggi l'unica cosa che mi basta di plasma è questa roba qui che è la parte che è la parte di identity più minimal più bella più 90's più più e qui probabilmente c'è anche un po' di still c'è anche del furto quasi c'era già il discorso del liquify c'era già il discorso dell'alluminio dell'olio dell'alluvione c'era già l'alluvione qui tra l'altro bello come vedere va bene noi abbiamo portato l'alluvione a Forlì per essere qua diciamo siamo stati noi siamo stati noi scusate abbiamo fatto questo è il primo anno primo anno di deliri impostazioni tanti investimenti una timeline dove doveva uscire un prodotto a settimana la follia proprio non avere idea di come si settano le robe ma anche un primo anno di grandi collaborazioni fallimentari fallimentari a livello è un anno dove sempre sono presbusate un grande buco economico fatto da terzi ho un'idea raccontaci vado random così prendo un post a caso e ci tiri fuori un aneddoto sul post io me ne vado posso andarmene via io me ne vado dopo aver sentito questa proposta questi buchi che abbiamo fatto è una grande consapevolezza che tra l'altro mi sento di condividere perché è anche per chi inizia a fare questo percorso interessante ad oggi le agenzie marketing escono fuori come i funghi e la nostra esigenza all'inizio era proprio un ragazzi che poi è stato anche un po' la cosa che dicevo con loro era ragazzi io avevo la cosa dei corsi le robe che volevo fare in più ho detto io da solo non ce la faccio più facciamo l'insieme non c'è questo know-how prendiamo un'agenzia esterna prendiamo questa agenzia esterna la più grande se oggi mi dicessero è stato più bello vivere quei mesi o ti caco su un piatto di spaghetti o mi mangio gli spaghetti cioè piuttosto veramente tu eri allora diciamola tutta tu sei stato in un periodo della tua vita molto pesante eri depresso venivi in ufficio che eri uno straccio non dormivi la notte eri completamente inutile mesi di merda mesi di merda ma oltre al padre i vari problemi diventare padre per una società hanno aperto altri problemi collaborare con un'agenzia esterna che lato artistico umano non era da prendere in considerazione lato come dire anche di valore proprio interno al progetto secondo me non avevamo capito assolutamente niente quello che mi senti condividere ad oggi con Terzi è se volete se avete un grande progetto internalizzate queste cose internalizzate l'effort sul lato soprattutto legato alla presentazione di voi stessi su questo potremmo aprire un dibattito infinito no 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 internalizzare giusto fino a un certo punto Filippo non diciamo cose che vanno al di là assolutamente infatti dico internalizzate quello che ha a che fare con l'effort prettamente di rappresentazione personale di brand e di quello che fate se voi avete un prodotto un corso un qualcosa lo dovete far uscire fuori a un pubblico o lavorate con un'agenzia forte che concepisce bene il vostro messaggio e lo riesce a far arrivare in un modo giusto agli esterni se no almeno nella nostra situazione che siamo un SRL che ha due anni secondo me e ad oggi è controprovato da varie cose è sempre meglio internalizzare la cosa ovviamente lato invece effort lato collaborazioni io qui ti do contro ti do contro per un motivo che cazzo vuoi dare questa cosa di internalizzare è giusta laddove c'è una direzione laddove c'è una direzione creativa corretta perché se tu internalizzi e noi l'abbiamo vissuto sulla nostra stessa pelle non su di noi ma di nostri vicini non vivi le criticità bene no significa che secondo me se tu internalizzi senza avere una direzione creativa forte con delle idee precise eccetera eccetera che è soprattutto in grado di metterti nella direzione giusta perché magari uno dice io ce l'ho in testa ho un'idea in testa perfetta ma fai fatica a metterla poi a terra quindi in realtà lì dipende perché se non c'è questa direzione creativa secondo me devi invece affidarti esternalizzare più che puoi pagando sonanti denari e certo perché al di là certo da noi c'era però in tante attività e quant'altro io credo che invece l'esternese è importante fondamentale è la parte anche più difficile la parte creatività devi sposare il progetto e trovare una persona che sposi la tua idea di concetto o che se non la sposi veramente la concepisca la concepisca e questo è stato un grande problema assolutamente quindi buoni propositi per i prossimi anni no aspetta che cazzo buoni propositi devi tagliare secondo anno abbiamo fatto il primo e il secondo anno è stato un un altro punto dolente del primo è condividere ogni istante con tutti e quattro e metterci d'accordo sulla direzione da prendere perché certi progetti si potevano prendere altri erano più rischiosi e dovevamo capire se prenderli ma soprattutto se prenderli e concepire il rischio per l'azienda assolutamente non sei da solo che gestisci il progetto ma sei con altre tre teste con tre visioni differenti e con ruoli totalmente differenti poi il primo anno è stato tutto un fai investi fai reinvesti fai reinvesti fai reinvesti il secondo anno in questo passando dal secondo anno è stato sicuramente uno step up sotto questo aspetto abbiamo avuto no abbiamo abbiamo avuto la possibilità di sfruttare un pochino di più raccogliere qualche semi che avevamo buttato come banalmente connessioni che avevamo abbiamo conosciuto un sacco di gente nel 2022 abbiamo 23 23 abbiamo conosciuto un sacco di gente nel 2023 molto di pieno nel 2022 io dal mio punto di vista nel 2022 è stato concentrato a strutturare costruire questa casetta questo plasma per poi arrivare nel 2023 effettivamente a iniziare ad uscire fuori iniziare a fare un po' di più ovviamente è una questione anche di un percorso e quest'anno stiamo continuando questa cosa infatti il 2022 secondo me nel seminare e nell'aver avuto la sfiga che c'è stata a maggio secondo me il 3 forca puttana il 23 iniziare a raccogliere questi frutti della semina in realtà sono stati fondamentali per in realtà vedere secondo me la curva di evoluzione veramente diciamo portare tanto nel momento che in realtà per noi era un po' più critico in quel momento dove dici adesso che cazzo facciamo dove andiamo e invece il vedere questa cosa che evolveva e la vedi continuativamente diciamo evolvere è stato allucinantemente incredibile infatti secondo me l'anno scorso è stato proprio l'anno dove arrivi da una grande consapevolezza di un primo anno di workout intenso di fallimenti intensi è l'anno dove la persona va in palestra si spacca ma mangia da mcdonald e allora lì capisce ah va bene forse non dovevo mangiare di muscoli sì ma sopra sai tanta di quella cacca da buttare fuori di grasso di schifo ok invece il secondo anno il secondo anno invece appunto è stato un workout progressivo continuativo col mangiare bene e quest'anno siamo in una situazione che secondo me sta portando portato continuo a provare grandi frutti ma soprattutto grandi consapevolezze ora quando facciamo le riunioni quando facciamo i cda quando ci ritroviamo siamo molto più concreti stiamo maturando si sfavoleggia molto di meno si guarda molto di più agli obiettivi e si va diritti al punto infatti abbiamo avuto subito diciamo risultati su quelli che erano stati all'inizio degli errori le cose vanno avanti a mio parere è stato un anno essenziale e la cosa bella dal ricordo di quello che è successo l'anno scorso è veramente essere qui un anno dopo e dire figata cioè nel senso non aver sentito il delirio che è successo che delle volte vengono ad una alluvione assolutamente quello che è successo è stato drammatico drastico ma ad oggi se sembra una roba da dire boh dieci anni fa se sembra una roba molto più in là beh ormai è un anno ormai è un anno ma aiutata tantissimo intanto beh grazie al supporto di tutti quelli che hanno seguito che io continuo a ringraziare tutti noi continuiamo a abbracciare come se fossero nostri fratelli assolutamente questo penso che soprattutto anche chi è venuto all'inaugurazione chi viene alle feste è una cosa che continuiamo a dire tra l'altro mi collego con la call to action del fatto che faremo il compleanno di plasma dove Michele ah così dove Michele non lo so facciamo un altro evento ma sicuro di volerla agganciare io voglio agganciare mi prendo questo rischio dopo un'ora di soliloquio vuoi agganciare questa bomba però questa è una stoccata allora facciamo che il 2 marzo facciamo un nuovo evento di plasma a Milano al mare culturale urbano non sappiamo quando uscirà questo podcast se siete se siete arrivati fino a qui nel podcast scrivete sotto ci sarò voglio il biglietto gratis così e noi vi manderemo il biglietto gratuitamente sarà gratuito per tutti iscrive qua sotto ticket punto esclamativo a un biglietto gratis pagato da Michele facciamo che ha un drink gratis offerto da plasma al plasma al drink di plasma gratis ci saremo drink rosa ci saremo noi ci saremo drink rosa se io non l'ho capito male mi sa che c'è tipo un ospite tipo David ho sentito qualcuno io ho sentito Luca Bizzarri che aveva un evento ma poi ha detto non c'è Tommaso Furi vengo all'evento io so che viene un influencer che si chiama Luca Botte tratta miata JDM giapponesi ci saranno tanti altri ci saranno anche un sacco di gente famosa tipo Red Carpet tipo chi ci sarà di niente uno uno si chiama Giacomo Casadei e poi chi ci sarà e poi ci sarà uno si chiama Ok Giorgio no non lo so speriamo speriamo vabbè Michele è così la denuncia non ci interessa va bene il discorso cioè non si tagliano le parti tanto questo è un podcast è così è abbraccio ad oggi appunto è la questo questo fare cose portare avanti cose è stata un po' la contro conferma di tutte le volte che ci siamo detti ma staremo facendo la cosa giusta che la cosa giusta richiede tempo in generale richiede tempo e ad oggi è giustamente è giustamento beh direi che possiamo sintetizzarla con cogliere l'attimo perché e le opportunità perché qua dopo l'alluvione dopo due mesi ci siamo trasferiti qua dentro che è stata l'opportunità forse più grande per iniziare verticali su quello che volevamo fare da soli e con le nostre idee perché poi abbiamo rivoluzionato anche il concetto di plasma interne no le due divisioni abbiamo portato avanti nuove idee abbiamo cercato nuovi collaboratori quindi in questi due anni abbiamo cercato più opportunità possibili per arrivare a un punto dove finalmente plasma può essere strutturata e presente sul mercato in maniera omogenea tutti i giorni sia presenza social che no quindi io in questi due anni li riassumerei così non so anche solo pensare sono d'accordo anche solo pensare lato lato organico cioè un anno fa ad oggi ad oggi siamo comunque attivamente con quelle due tre persone che comunque sono costantemente qui più collaboratori esterni che continuano come dire ad esserci quelle scrivanie che l'anno scorso dicevamo ma le postazioni di workspace che si iniziano a riempire velocemente quindi Michele la prossima sede è dove? Ah la prossima sede è a Istanbul perché a Istanbul? Osta è Istanbul c'è un sacco di roba da fare io ci sono dei gran piatti cambiamo capelli? cambiamo capelli tutto trapianto tutto trapianto questo cos'è? come dentro tutto ah sì è vero era molto più bello l'altra l'altra modalità qual'era? l'altro video che mi è andato online tu c'era Michele che ballava è vero? ti ricordi? ah con l'alco corico uscite quel video per favore uscite immediatamente dobbiamo trovare immediatamente lo troverò subito va bene quindi scrivete ticket ticket per avere un drinkomaggio drinkomaggio Michele chiudilo chiudilo come solo su tu sai fa se siete arrivati fino alla fine vi ringraziamo immensamente fateci gli auguri insomma sotto nei commenti risponderemo uno a uno e vi daremo appunto dei piccoli regalini per l'evento per l'evento di Milano e quello dopo per un bonifico fattessi gli auguri mi ricordi bambini i complanni dov'è il regalo? non mi ha portato un regalo? ci sta fattessi gli auguri grazie ragazzi alla prossima grazie a tutti delivering the pizza for everyone